Sì, oggi è stata una bellissima giornata, è venuto a visitarci un gruppo di professori polacchi e anche il direttore di un centro per l'impiego polacco, tra l'altro una persona molto interessata a capire come qui in Italia e qua da noi avviene l'incontro tra il mondo della formazione e quello dell'inserimento lavorativo. Gli abbiamo presentato quella che è l'esperienza della cooperativa La Formica, una cooperativa viva, 21 anni di cooperazione sul territorio riminese, sono stati molto contenti di averci conosciuti. Che tipo di domande ti hanno fatto? A cosa erano interessati principalmente? Erano innanzitutto interessati a capire come funziona un'impresa cooperativa perché in Polonia non è così diffusa questa forma ma sappiamo che a livello europeo comunque l'impresa cooperativa viene vissuta e ci sono esperienze molto differenti anche a causa appunto di legislazioni molto differenti. E poi erano molto interessati a capire come avviene il match tra quella che è la parte dei servizi, ecco, proprio di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro e le realtà imprenditoriali, in particolare nel nostro caso in imprese cooperative. Grazie a tutti!